Essere un artista rilevante vuol dire essere un artista che ha una certa priorità nel settore del mercato in quanto la sua mole di pubblico, di business che muove è vasta e quindi di conseguenza le major devono dargli una priorità. Ci sono artisti internazionali come Ozuna ad esempio che hanno priorità assoluta su tutti gli altri per il business che muovono, ma non è del mondo degli artisti rilevanti che voglio parlare. Il mondo che voglio toccare oggi è quello degli artisti che comunque influenzano il genere nel proprio paese, influenzano il mercato discografico generale attraverso il loro genere. Che cosa hanno in comune? Neffa, Fabri Fibra, Emi Schilla e Sfere Basta? Esattamente questo. Sono stati i personaggi che hanno influenzato il mercato discografico italiano attraverso la cultura urban e dico urban perché dire rap è limitante in quanto sì Neffa, Sangue Misto sono stati i precursori del rap diciamo primitivo, i primi a farlo in Italia. Sì ok Giovanotti, sì ok Frankie Energy, sì ok chi ci ha provato già nell'89, però qui parliamo di personaggi che poi sono arrivati nel mondo mainstream. Fabri Fibra è stato quello che ha riaperto le acque, siamo tutti figli di Neffa, però poi dopo il mondo Neffa, Sangue Misto e compagnia c'è stato un piccolo buco che è stato riaperto da Fabri Fibra e la vera New School è iniziata con Emi Schilla Fedez. Ok, Sfere Basta non è solo uno di quelli che ha riaperto nuovamente il mondo rap a un'evoluzione, il mondo rap italiano a un'evoluzione pazzesca nuova che ha influenzato a seguire negli anni successivi tutto quello che c'era dietro, creando anche un business pazzesco dietro il mondo rap. Sfere Basta è un personaggio che nonostante non fa un album da due anni ha 4 milioni e mezzo di ascoltatori su Spotify, è un personaggio che ha influenzato tutto. Cioè, chi sono i personaggi a livello internazionale che restano nella storia? Parliamo di gente come i Beatles e non è un discorso solo meritocratico perché non è un discorso di contenuti, di testi, di strumentali. Parliamo di gruppi e musicisti che in quegli anni hanno influenzato tutto il resto e per questo motivo sono rimasti nella storia. E poi sono rimasti col tempo, hanno continuato a vendere con gli anni, ok. Rapportato ai tempi moderni, Sfere Basta per l'Italia è uno di quei nomi e lo dico a mio discapito, cioè io quando ascoltai Sfere Basta ai primi tempi lo reputavo uno scemacchione, uno di quelli che non avrebbe fatto nulla. Comunque erano i tempi in cui i giovani si atteggiavano, troupe d'élite facevano questo rap autocelebrativo scadente, letteralmente. Tanto che Sfere Basta, prima di Per Davvero, doveva uscire con Emergenza Mixtape Vol. 2 e ha avuto la pensata di non uscire con quel progetto. Sarebbe stato un disastro, non avremmo avuto Sfere Basta perché Per Davvero ha cambiato le sorti. Le ha cambiate sotto vari punti di vista, quelli stilistici, a livello di immaginario, che ha giocato un grande imprinting, soprattutto anche perché era l'era dei nuovi videomaker, di un nuovo modo di far video per il rap, che ancora oggi influenza. L'ha fatto dal punto di vista delle strumentali, cambiando letteralmente il sound del panorama musicale. Lo ha fatto dal punto di vista lirico, questa è la parte un po' più peso perché liricamente abbiamo perso sì i contenuti, però abbiamo legittimato una sorta di gangsta rap più melodico e meno reale, però rendendolo abbordabile a tutti. Cioè se prima tu volevi fare un certo brano dicendo determinate cose dovevi avere la credibilità, oggi non la devi avere più la credibilità. Tu puoi dire un po' quello che vuoi, basta che lo fai in un certo modo. A questo discapito dei contenuti, ma che cosa vuol dire avere contenuti? Vuol dire semplicemente essere autentici e sinceri e quindi di conseguenza salta tutto perché ci sono tanti ragazzi che magari fanno musica portando se stessi, portando contenuti, ma la fanno male. I contenuti che portano sono sempre quelli che, insomma, un po' di tutti e scrivono male magari. Punto, non è che dici tu prendi la traccia, dici mi è accaduto questo, questo e quest'altro, sto portando i contenuti. Sì, però non è poi così scontato, cioè è meglio il contenuto portarlo magari nel sottotesto piuttosto che nel testo se nel testo è debole. E Sfera e Basta fondamentalmente il suo vissuto per davvero l'ha portato, camuffato, ha detto il suo perché era comunque emblema di quello che viveva, ciò che raccontava. Ecco, e il buon Sfera ad oggi sta per uscire con un disco che vanta collaborazioni come Future, J Balvin, Offset, Diplo, Marrakesh e Guè, giusto? Due italianetti ce li buttiamo. Steve Eocchi, cioè Lil Mosi, ok, è un disco che ha un'impronta puramente internazionale, cioè Sfera e Basta ha un tot di seguito in Italia. Forse è ineguagliabile, perché comunque tu hai 4 milioni e mezzo, non fa un disco da due anni, cioè non è che dici mo', penso che tutta la fanbase, rap, trap, sbatta su un suo brano o su una sua collaborazione. Quindi comunque non è che più di questi non è che puoi avere. Di conseguenza sta cercando l'espansione, sta cercando di arrivare a quei numeri che gli consentono di entrare in top 200 al mondo, che poi Spotify te lo segnala proprio sotto. Quindi sta cercando di fare il grande salto, un qualcosa che in Italia hanno tutti provato e nessuno ci è riuscito. Forse solo lui ci può riuscire. Le collaborazioni internazionali si fanno da tempo, certo il primo forse è stato Guè quando fece il featuring con Acon, fu il primo grande featuring di quel livello lì probabilmente, certo. Però a livello di seguito non è riuscito a infrangere la barriera del mercato internazionale, non c'erano neanche gli strumenti. Sfera e basta, ci sta provando e magari ci anche riesce, perché comunque lui è primeggia completamente. Mi ricordo quando uscì per davvero e non era ancora un disco ufficiale, era in Freedom Blood e c'erano tante persone che lo attaccavano dicendo «No, ma tu sei la brutta coppia di Maruego, questa roba l'ha portata a Maruego». Ed è vero fondamentalmente, Sfera lo stava veramente copiando, cioè per davvero sembrava proprio una versione di Maruego buttata lì. Con la differenza che non è che stava copiando Maruego, stava copiando il mondo americano, francese, cioè stava portando questo stile. Quindi ha dovuto mangiare anche un bel po' di merda per qualche mese, portando questo stile qui. E Maruego mi ricordo che disse «Io ho collaborato con tutti, Club Dogo, t'assaggete qua, second roof, io esisto, voi siete solo dei personaggi da web». E poi Maruego è sparito, non si è più riuscito più tanto a riprendere, invece Sfera non si è più fermato. C'era questa competizione con Gali, usciva il video di Sfera, quello di Gali si superava una vicenda, però poi Gali si è adagiato a un mondo pop, puramente. Ha fatto un'altra strada, invece Sfera è rimasto comunque in quell'immaginario, in quel panorama. E da oggi eccoci qua, aspettiamo famoso, non è sicuramente un artista che io seguo in una maniera devota, però ogni volta che esce il disco di Sfera lo ascolto, lo ascolto perché anche se magari un brano può discostarsi del mio piacere lirico, è innegabile che la musicalità di sto ragazzo è veramente forte, cioè perdete Cupido, è una canzone come tante, una canzone che non tratta nessuna tematica in particolare, la solita canzonetta, però per come suona il beat, per come ci va lui, il featuring internazionale è una canzone che poi diventa hit, diventa emblema, ti entra in testa e come puoi chiamare un brano così, se non geniale, da un punto di vista di mercato moderno. È chiaro che non possono capire i personaggi del passato, non possono capire gli uomini di una certa età, ma fatti concreti di questo che stiamo parlando. Quindi aspettiamo questo disco perché sicuramente sarà uno di quei dischi, che tanto ci ha messo tempo a lavorarlo, che aprirà un nuovo spiraglio e una nuova frontiera di evoluzione musicale in Italia, nulla che non possiamo già trovare all'estero, però sicuramente sarà interessante perché Sferebasta in questo momento è la finestra, lascia passare tra il mondo e l'Italia dal punto di vista urban, perché è quello più rilevante, quindi se lo fa lui allora è legittimato. Per me i maestri sono sempre i maestri, cioè quando Fabri Fibra fa il disco è lì che è a livello rap, perché Sferebasta è comunque trap, pop trap anche, invece a differenza di Galli che è puramente pop, invece lui è trap popolare, quando esce Fabri Fibra per me il disco è la nuova frontiera del rap, cioè a che punto sta il rap italiano oggi? Ecco, quando esce il disco di Fibra, il disco di Marrakesh lo sappiamo, quando invece esce il disco di Sfera capiamo a che punto è il mondo trap in Italia oggi, e quindi che piaccia o meno bisogna accettare il fatto che Sferebasta è l'artista italiano più influente degli ultimi anni.